Messa in duomo per la Virgo Fidelis. Questa mattina alle 9 i carabinieri della provincia di Pordenone in servizio e in congedo hanno commemorato la loro patrona con una santa messa celebrata nella concattedrale di San Marco dal vescovo Giuseppe Pellegrini, il comandante provinciale dei carabinieri Fabio Antonazzo. Come tutti i 21 novembre oggi festeggiamo la santa patrona dell'arma dei carabinieri, la Virgo Fidelis e si ricorda anche la battaglia di Curcola avvenuta nell'Africa orientale durante il secondo conflitto mondiale. È un'occasione per ritrovarci tutti insieme, per sottolineare ancora una volta oltre al nostro servizio anche quella sensazione, quel sentimento di solidarietà che ci deve accomunare. Alla santa messa era presente, oltre alle diverse autorità, anche il vice sindaco del comune di Pordenone, Renzo Mazzer. La presenza dell'amministrazione comunale e delle istituzioni a questa funzione religiosa per l'arma dei carabinieri è una presenza dovuta soprattutto per il sentimento di riconoscenza che noi abbiamo verso gli uomini e le donne di questa arma che all'oscuro qualche volta stanno lavorando per la sicurezza della nostra comunità, delle nostre comunità, del nostro territorio e quindi crediamo che questo lavoro oscuro vada ogni tanto sostenuto anche dalle istituzioni soprattutto per il bene delle nostre comunità.